In arrivo 31,7 miliardi di euro per gli investimenti nelle ferrovie in Italia, è quanto prevede l'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile e Rete Ferroviaria Italiana. L'aggiornamento recepisce l'evoluzione della programmazione e dei finanziamenti sia statali che europei, come quelli legati al Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Le risorse consentiranno l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria per garantire maggiore efficienza e sicurezza e una migliore quantità e qualità dei servizi. L'obiettivo è anche quello di colmare il gap infrastrutturale nord-sud, puntando sempre di più sull'alta velocità per passeggeri e merci. Nel dettaglio sono previsti 2,6 miliardi di euro per contenere i rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico. 3,5 miliardi sono finalizzati all'ammodernamento tecnologico e 2,3 miliardi al trasporto pubblico locale. A nord si potenzieranno le tratte ferroviarie Milano-Venezia, Verona-Brennero e Liguria-Alpi, mentre al sud si estenderà l'alta velocità, con il completamento della direttrice Napoli-Bari, l'avanzamento ulteriore della Palermo-Catania-Messina e i primi lotti delle direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza-Battipaglia. A novembre cara la fiducia dei consumatori, mentre resta stabile quella delle imprese. È quanto rileva l'Istat, attribuendo la flessione a un peggioramento delle attese sulla situazione economica generale e di quelli attinenti la sfera personale. Solo il clima corrente è in crescita, con l'indice che passa da 113,7 a 115,2. Per le imprese si stima un miglioramento della fiducia nell'industria manifatturiera e nel commercio al dettaglio. Un calo invece nei servizi di mercato e nelle costruzioni. In relazione ai servizi di mercato, i giudizi sugli ordini e quelli sull'andamento degli affari sono in peggioramento, mentre un deciso aumento caratterizza le attese sugli ordini. Nelle costruzioni, giudizi sugli ordini sostanzialmente stabili, si uniscono ad attese sull'occupazione presso l'azienda in diminuzione. 5 milioni di euro, questo l'obiettivo della raccolta fondi del progetto Ripartiamo, promosso da Intesa San Paolo e WUF Italia, con Giovanotti, per richiamare l'attenzione sulla sostenibilità ambientale, ma che in questo momento è anche un messaggio di speranza per il mondo dello spettacolo fiaccato dalla pandemia. Cuore dell'iniziativa For Funding, la piattaforma di crowdfunding d'Intesa San Paolo, nella quale convergeranno le donazioni dirette o quelle che si potranno fare durante l'acquisto dei biglietti della Jova Beach Party 2 della prossima estate. Una tournée che avrà l'epilogo nell'autunno con due spettacoli esclusivi a Milano e Roma, ai quali potranno partecipare 4 mila fortunati donatori. Noi siamo attenti, attentissimi a essere una banca d'impatto che quindi fa e restituisce al territorio le comunità. Abbiamo quindi partecipato a questa bellissima idea di Giovanotti con i concerti, con una bellissima esperienza, ma allo stesso tempo creando un'iniziativa. Tra le azioni che verranno finanziate dal progetto Ripartiamo. La pulizia di oltre 20 milioni di metri quadri di spiagge, litorali, laghi e fiumi, la cura del territorio con la realizzazione di infrastrutture in 12 aree a rischio e la formazione dei giovani. Sono previsti programmi di sensibilizzazione per oltre 100 mila studenti e stage formativi presso WWF Italia per acquisire esperienza sul campo. I giovani sono fondamentali in questo percorso perché hanno l'energia, condividono i valori, sono stati promotori di tutte le iniziative green. Per loro facciamo anche qualcosa in più, dedichiamo 10 borse di studio proprio per potersi informare, per poter crescere anche professionalmente nel mondo ecosostenibile. Quindi non c'è solo un'azione verso l'ambiente e la collettività, ma anche perché i giovani siano sempre più formati e promotori professionali di un modo diverso di vivere l'ambiente. La nostra economia sta andando bene, per il 2021 è previsto un PIL a più 6,2%, nel 2022 a più 4,5%, quello che invece preoccupa è la disoccupazione. Siamo al 10% per quella generale, al 30% per quella giovanile, 50% per la femminile. Proprio per questo il Governo ha messo in campo un miliardo di Euro per le politiche attive del lavoro, per la formazione 4.0. È un'opportunità che le aziende non possono perdere per diventare anche più competitive ed innovative.